bella a tutti fourniters benvenuti su leon tube eccoci in questo video per andare a fare l'incarico distanza percorsa con almeno quattro slot di inventario vuoti incarichi settimanali settimana numero 8 eccolo qua lo andiamo a fare che cosa bisogna fare bisogna avere gli slot che sono quelli delle armi con una sola arma possiamo farlo a piedi o in un mezzo o anche in aria quindi possiamo farlo tranquillamente come vogliamo e ad esempio adesso voglio mettere questo qui nel cassone vediamo che succede e non cade in terra ok perché possiamo farlo con la macchina oppure qui adesso avevo la scopa eccola qua la scopa e andiamo a vedere che vedete ci vengono contati in qualsiasi modo li facciamo i metri ok ora è partita la tempesta quindi noi ce ne andiamo col nostro furgoncino perché ho preso la scopa perché in questa partita vedete che il cerchio ormai non è più molto grande la tempesta ormai piccola e non c'è tanto spazio per girare con l'auto e quindi qualora è un posto anche scomodo qualora ce ne fosse bisogno andiamo di scopa qui adesso sto andando di qua perché ho visto la strada siamo già a 400 metri ho visto che c'è la strada quindi ci mettiamo a fare un po' avanti e indietro per questa strada qua in modo da farlo abbastanza più velocemente in modo veloce c'è anche la moto credo no però sì credo che l'avevo lasciata eccola qui l'ho lasciata qui da qualche parte la moto perché ci va andare leggermente più veloce non peraltro quindi abbastanza semplice anche questo incarico bisogna dedicarci solo a questo ovvio che quando avremo finito di fare questi 1337 metri poi poi saremo disarmati ora torniamo indietro dall'altra parte ce ne mancano 400 curva strettissima eccoci qua andiamo a fare gli ultimi 200 metri poi siamo a posto anche se ora saremo disarmati abbiamo solo la possibilità di scappare con la nostra scopa occhio occhio no 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 eccola qua completata ragazzi se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace condividetelo con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento e come sempre se vi va vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti